Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Diretta Versilia, appuntamento quotidiano con l'informazione, una finestra di metà giornata sulle notizie di oggi, come sempre vi daremo informazioni sulla mattinata, su quello che è accaduto oggi, uno sguardo all'attualità e poi commenteremo i fatti della giornata con i nostri ospiti in studio. Vado subito a presentarvi l'ospite di oggi, do il benvenuto a Diretta Versilia all'Avvocato Fabrizio Bartolini. Buongiorno a tutti. Buongiorno Avvocato, grazie di essere con noi, con lei affronteremo un tema molto delicato e che sta molto a cuore alla città di Viareggio, il 31 di gennaio, ormai è quasi passato un mese, c'è stata la sentenza di primo grado sulla strage ferroviaria di Viareggio e lei che ha seguito la causa di molte famiglie ferite e in tutti i sensi da quello che è stato veramente un disastro a tutti gli effetti per la città di Viareggio, ci parlerà anche del lavoro che è stato fatto a livello legale e come si è cercato di riparare anche il danno morale e non solo, anche ben altro per i familiari delle vittime. Un tema delicato che non sempre siamo riusciti ad affrontare così da vicino. Prima di parlare con l'Avvocato Bartolini, come sempre partirei dalle notizie della giornata, dunque da una breve panoramica della rassegna stampa online con i quotidiani del web. Partiamo con il Tirreno, pagina della Versilia, in primo piano c'è la cronaca, lasciano la figlia in auto per andare a rubare, marito e moglie arrestati dai carabinieri mentre tentano di svaliggiare una casa a Camaiore. È successo nei giorni scorsi, si tratta di una bambina, pensate, di appena 10 anni che è stata lasciata in auto e loro, appunto, indisturbati, andavano a svaliggiare delle auto. Questa è la Nazione, pagina di Viareggio, sanità in primo piano, pronto soccorso, arrivano i rinforzi, decisa l'assunzione di due medici. I sindaci hanno fatto il punto sulla situazione con i vertici della ASL. Uno sguardo a versiliatoday.it, quotidiano online. In primo piano c'è il Carnevale di Viareggio, vedete il terzo corso in diretta TV, non soltanto la diretta storica, possiamo dire, diretta Versilia e noi TV, ma domenica sarà il primo giorno della RAI sul corso di Re Burlamacco, di Re Carnevale, con degli affacci in diretta televisiva e poi il martedì di Grasso, dedicato proprio alla diretta del martedì di RAI 3. E infine terminiamo sul nostro sito web, reteversilianews.com. In apertura c'è ancora la vicenda di Retignano con i due nigeriani, due ragazzi rifugiati, richiedenti asilo, trovati senza vita due sere fa e ormai sembra più concreta l'ipotesi che è stata fin da subito paventata dal PM, potrebbe esserci il consumo di una zuppa velenosa con l'utilizzo di alcune erbe, in particolare alla base del decesso di questi due ragazzi di 21 e 23 anni, nigeriani, richiedenti asilo e che erano ospitati in questa struttura dell'Alta Versilia. Un fatto che ha scosso la comunità versiliese, in particolare la piccola comunità di Retignano, una frazione dell'Alto Stazemese. Siamo andati a vedere, sentiamo dunque le prime reazioni anche del sindaco Maurizio Verone. C'è poca voglia di parlare all'agriturismo le poiane di Retignano, sia da parte dei gestori della struttura che della responsabile della cooperativa Odissea che si occupa della gestione dei profughi nel comune di Stazema. Una struttura nascosta nei boschi dell'Alta Versilia, di fronte alle cave della Cerbaiole e sotto il Monte Corchia, l'unica individuata dalla prefettura lucchese per la distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio del comune di Stazema. Qua sono ospitati dal dicembre 2015 21 richiedenti asilo, divisi tra nigeriani e senegalesi. Diversi stili di vita, diverse religioni e diverse abitudini alimentari per cui ognuno si occupa autonomamente dei propri pasti. E proprio su questo si stanno concentrando le indagini dei carabinieri, dato che sui corpi dei due giovani trovati morti non sono stati trovati segni di violenza. Si indaga quindi su ciò che possono aver ingerito i due giovani per causarne la morte e saranno risultati degli esami tossicologici e dell'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni a chiarire meglio le cause della tragedia. Una tragedia che ha colpito e scosso l'intera comunità, come affermato dal sindaco di Stazema Maurizio Verona, tra i primi ad accorrere all'agriturismo una volta saputo della tragedia. Questa notizia ci ha un po' traumatizzato, ha traumatizzato l'amministrazione ma credo anche la comunità tutta. Ieri sera hanno provveduto a fare tutte le indagini, ormai non possiamo fare altro che attendere le notizie e gli esiti dell'autopsia. Da racconti che ho potuto capire e carpire, loro dormivano insieme a un altro ragazzo, l'altro ragazzo che la mattina è andato via con i gestori e ha visto che erano svegli, uno dei quali pregava, quindi era sveglio e vicile, la sera giocavano a ping pong, quindi non avevano manifestato qualcosa di preoccupante nelle ore precedenti e pertanto veramente è difficile capire la dinamica. Questo è il commento del sindaco Verona, vi terremo aggiornati anche sulle notizie che arriveranno in giornata, sulle indagini in particolare. Torniamo in studio dunque con l'avvocato Bartolini, come dicevamo poco fa ha 20-30 giorni, quasi un mese ormai dalla sentenza di primo grado sulla strage di Viareggio, vorremmo capire insieme quali difficoltà intanto ci sono state in questi lunghi anni di udienze e di processi da parte vostra, da parte sua insomma come avvocato della difesa. Le difficoltà sono state sicuramente tante in questo processo, bisogna premettere, prima di tutto direi sicuramente abbiamo affrontato un problema anche organizzativo perché gli atti del processo più o meno costano di 500 mila pagine di atti, quindi ci siamo dovuti prima di tutto affrontare e approcciare a questa mole enorme di materiale, tra l'altro molto tecnico, perché questo è anche un altro problema, perché quando si andava a parlare e andare a analizzare i vari aspetti di questo processo, l'80% ovviamente del cuore di questo processo riguarda tutti gli aspetti tecnici, quindi ci siamo dovuti confrontare sia con i termini tecnici, potrebbe essere un vocabolario apposta per i termini ferroviari, quindi la boccola, la sigle, l'antisvio, la sigla RVI che è stata praticamente… Tutto un termine settoriale con cui ci vuole un po' anche per familiarizzare forse. Poi si doveva andare a capire, e questo era l'altro problema, la vera causa del processo, che non è banale, perché se noi si pensa che diciamo molte udienze le abbiamo perse, ma perse fra virgolette nel senso che poi sono servite per chiarire, sull'aspetto picchetto zampa di lepre, cioè se la cisterna era stata squarciata dal picchetto era zampa di lepre. Ne è parlato per mesi, per tantissimo tempo. Però poi, per poi capire che poi il vero problema non era quello, il vero problema, perché siccome tutto il processo è anche qui dai capi di imputazione, si vede qual è poi la contestazione, si basa sulla normativa sulla sicurezza, quindi il vero problema è che è nato il processo di Viareggio e la strage di Viareggio perché si è rotta quest'assile, quindi perché si è rotto, quali sono state le dinamiche, i controlli sono stati fatti o meno. Ma ancora prima, siccome si faceva viaggiare una cisterna carica di GPL in mezzo a un centro abitato e si parla di materia di sicurezza, quello che doveva essere ovviamente tutelato e preventivato dalle amministrazioni ferroviarie, dai vertici delle ferrovie, era il fatto ovviamente di evitare che questo materiale si incendiasse, come poi si è verificato. Quindi il cuore del processo poi è quello, cioè cosa è stato fatto e cosa poteva essere fatto ai fini dell'evitabilità dell'evento. Il fatto poi che sia impattata questa cisterna nel picchetto, nella zampa di lepre, ci sono le due versioni, io sono convinto sicuramente nel picchetto perché ampie dimostrazione ce l'hanno date i consulenti, è sicuramente una conseguenza, come quando il treno che ormai era deragliato, ha incontrato il passaggio a raso che ha fatto da trampolino e l'ha fatto ribaltare, anche quella è sicuramente una concausa. E l'altra difficoltà ancora è aver dimostrato, e questa è la prima sicuramente sentenza su questo aspetto, aver dimostrato che quello che è accaduto a Viareggio non è responsabilità del tecnico, in questo caso il tecnico è quello della Jugend, che poi di fatto è stato riconosciuto colpevole e condannato alla pena più alta in questo procedimento di nove anni, cioè colui che doveva fare questi controlli sugli assili e come li doveva fare, poi è stato certificato anche quello, perché poi è stata una battaglia anche su questo discorso, ma il fatto che la vera responsabilità era in capo ovviamente agli amministratori, perché da lì partiva tutto, perché il discorso della strage di Viareggio, io questo l'ho sempre sostenuto al processo, l'hanno sostenuto anche le vittime, era un disastro annunciato, perché si risparmiava sul settore merci, mentre tutte le tecnologie, tutti gli investimenti venivano fatti sul settore del trasporto ad alta velocità, sul settore merci è stato dimostrato che in realtà si andava a risparmio, assili... Quindi ho annunciato quantomeno prevedibile in una certa misura... Ma altamente prevedibile, sicuramente altamente prevedibile, sia per i costi di noleggio, il costo di noleggio, perché questo carro era di proprietà della GATX, società ovviamente straniera, che aveva noleggiato AFS Logistica, ecco il costo di noleggio era 23 euro giornaliere, compresa la manutenzione, anche questa che andava fatta poi, diciamo, temporalmente scadenzata, perché lì c'era praticamente un manuale che diceva che il manuale famoso WP, che anche in questo caso vi è stata la difficoltà di capire come si poteva legare un manuale che non è una legge a una responsabilità ovviamente di determinati soggetti che magari non avevano adempiuto a quello che era scritto ovviamente su questo manuale. Quindi difficoltà innanzitutto tecniche per la materia complessa, per la complessità anche del fatto in sé per sé, nel ricostruire tutto quanto, ricordiamo anche che c'è stata la fase dell'incidente probatorio che è stata determinante, insomma, anche per cristallizzare le prove per la fase del processo. Ci sono state però anche difficoltà di relazione, potremmo dire, con le altre parti o con l'accusa. Allora, prima di tutto ha parlato di incidente probatorio, volevo fare una piccola parentesi, perché ritornando anche al discorso delle difficoltà che ci siamo incontrati, abbiamo, diciamo, affrontato. Perché per esempio l'incidente probatorio, io feci personalmente la domanda all'ingegnere Licciardello, proprio alla fase dopo che aveva concluso ovviamente questa, insieme all'ingegnere Vange aveva concluso ovviamente le indagini, venne fuori che praticamente queste persone, l'ingegnere Licciardello, lavorava in un gruppo di studio finanziato dalle ferrovie, quando praticamente all'inizio, quando uno dà l'incarico, il CTU deve adempiere e deve giurare di adempiere, di non avere rapporti, ovviamente perché deve essere terzo rispetto alle parti. E questa cosa è venuta fuori successivamente, quindi poiché la perizia casualmente, io dico casualmente, ma secondo me non è un caso, proprio in virtù di questo rapporto, ha cristallizzato il fatto che l'impatto con la cisterna fosse avvenuto, in base a quello che è stato scritto in incidente probatorio, con la zampa di lepre, anziché col picchetto, ci siamo portati dietro. Questa realtà che è altamente contrastabile, per questo fatto di dubbia chiarezza sicuramente, perché mi vai a dichiarare che non sei e non hai contatti con le ferrovie e poi si scopre in realtà che sei ovviamente in qualche maniera pagato dalle ferrovie, legato sicuramente dalle ferrovie. E per quanto riguarda appunto i rapporti che si sono avuti, sicuramente abbiamo avuto ottimi rapporti, sia con la procura, perché abbiamo seguito la stessa strada, la stessa linea. Ora, di solito la parte civile è sempre sulla stessa strada della procura, però in processi normali, dico, ognuno fa il suo lavoro, la sua strada è di solito, è difficile ci sia una coordinazione. Invece in questo caso c'è stato, sia proprio anche per la difficoltà di affrontare il processo e sia per la mole di lavoro, vi è stata ovviamente questa fattiva collaborazione anche con incontri con i propri periti e i periti ovviamente nostri. A proposito di lavoro, quante famiglie in tutto lei ha assistito nelle varie fasi dell'indagine e poi del processo? Io inizialmente avevo 35 persone, poi alcune hanno, perché c'è stata una fase, diciamo nella fase dell'incidente probatorio e fra l'udienza preliminare, alcune persone, diverse persone poi hanno chiuso e quindi hanno praticamente ottenuto risarcimento e si sono fermate e sono rimaste persone offese. Mentre una vuta e una decina praticamente nel processo che si sono costituite parti civili e hanno tuttora la ferma intenzione ovviamente di andare avanti indipendentemente dal risarcimento che alcuni poi l'hanno rifiutati e altri l'hanno presi in acconto sul maggiore avere. Ecco, vorrei venire proprio a questo aspetto, in base alla sentenza che c'è stata, a capire poi quali passi si potrebbero seguire nei prossimi settimane, nei prossimi mesi. Ci dobbiamo però fermare per pochissimi istanti e tra poco di nuovo insieme nella seconda parte di Diretta Versilia. A tra poco. Ben ritrovati, seconda parte di Diretta Versilia. Insieme a noi in studio l'Avvocato Fabrizio Bartolini che ha già raccontato e ripercorso con noi le fasi iniziali del processo sulla strage ferroviaria di Viareggio, ne continueremo a parlare tra pochissimo. Intanto vorrei tornare sull'attualità e sugli eventi della mattinata. Come annunciato di fronte al municipio di Viareggio stamattina alle 10 c'è stato un flash mob da parte del Movimento 5 Stelle, del gruppo consigliare comunale e di quello regionale. C'era anche il capogruppo Cantone in consiglio regionale a Firenze. Pubbliche scuse di vice sindaco e presidente del consiglio e poi dimissioni. Questo era uno dei cartelli che sono stati mostrati, lo vedete anche adesso dagli attivisti del Movimento 5 Stelle. C'era anche la capogruppo Viareggio, Anna Maria Paciglio e come detto anche il portavoce regionale insieme al presidente del gruppo. Una delle richieste immortalate sui cartelli dei 5 Stelle, un flash mob durato in realtà poco, almeno un quarto d'ora davanti al comune. Matto è chi non tiene fuori la mafia dallo Stato, non chi la combatte. È stato un altro slogan. Il tema ricorderete è quello delle presunte infiltrazioni mafiose in porto a Viareggio. Se ne è parlato molto nelle settimane scorse in merito ad una concessione in particolare rilasciata dal comune ad alcuni imprenditori. Il tema è stato discusso nell'ultima commissione consigliare dedicata al porto. Ci sono state delle parole a giudizio di 5 Stelle pesanti da parte del vice sindaco Walter Alberici nei confronti della capogruppo 5 Stelle Pacilio. Di qui la solidarietà del gruppo regionale del movimento grillino che ha manifestato di fronte al municipio. Dunque si chiedono le dimissioni addirittura di vice sindaco e di chi ha sottovalutato il problema come la presidente del Consiglio Gifuni e poi si rivendica il diritto e il dovere della politica di prevenire eventuali infiltrazioni o di garantire trasparenza e legalità nelle concessioni portuali. Vi daremo maggiori dettagli nell'edizione serale del telegiornale in diretta alle 18 e 25. Intanto proseguirei di nuovo con l'avvocato Bartolini dando uno sguardo adesso a quello che è stato il 31 gennaio la sentenza di primo grado sulla strage. Intanto secondo lei che clima c'è stato quel giorno oltre ovviamente di attesa nelle ore precedenti? Il clima sicuramente era concitato perché era anni che avevamo lottato, si aspettava ovviamente questa sentenza e anche se eravamo convinti, ero convinto personalmente ma anche le persone offese prima di me ovviamente che vi era la responsabilità ovviamente di questi vertici di quello che era accaduto ovviamente non essendoci stato un precedente fino a oggi in materia, in merito c'era un punto interrogativo, quindi quello che ci si aspettava era sicuramente un riconoscimento come è avvenuto della responsabilità di questi vertici e non solo, ripeto, del tecnico che magari non ha fatto il controllo. Quindi quando c'è stata una lettura e appunto il giudice ha dichiarato la condanna di queste persone ai vertici, l'ingegnere Michele Lia, Moretti, Pacchioni eccetera, in questo caso il risultato sicuramente abbiamo avuto la consapevolezza di averlo ottenuto. Un punto fermo c'è adesso. Un punto fermo c'è, diverso è un po' il discorso delle condanne perché su quello ci si aspettava qualcosa di più, sicuramente perché ricordiamoci che il pubblico ministero aveva chiesto 16 anni per Moretti perché il reato più grave fra quelli contestati era il disastro ferroviario, poi c'era l'omicidio plurimo, le lesioni colpose eccetera, però si parte dal reato più grave e si aumenta per gli altri reati, per l'articolo 81 del codice penale, per la continuazione. Erano più del doppio le richieste del PM, a meno per i vertici delle ferrovie. Sì, perché praticamente è proprio da, partendo da Moretti, lui l'amministratore è lui che faceva le scelte gestionali, quando all'udienza, a una delle tantissime udienze, venne sentito come testimone di Ego della Valle perché lui era socio nel progetto Italo e aveva avuto ovviamente queste grosse difficoltà, perché Moretti non voleva farle entrare ovviamente, diceva che non si muoveva foglia se non lo decideva Moretti, quindi era lui che praticamente gestiva tutto il sistema ferroviario e quindi anche le scelte gestionali che hanno portato... Ed è sulla base di questo che voi vi aspettavate una pena forse un po' più pesante. Sì, perché poi c'è stata la pena più pesante per i tecnici che materialmente dovevano fare il controllo, quindi gli imputati tedeschi che sono stati condannati a 9 anni, 7 anni Moretti, in realtà ci si aspettava che un danno principale, più pesante via, fosse sicuramente addevitabile ai responsabili e dell'amministratore delegati di queste società ferroviarie. Sul contesto invece civile, la difesa per i danni materiali, fisici subiti e quelli morali, si è ottenuto qui qualcosa bisogna dire per molte famiglie? Sì, si è ottenuto molto, perché soprattutto per quanto riguarda anche il danno psicologico, si è ottenuto un riconoscimento a sé stante del danno psicologico, perché questa anche la giurisprudenza precedente lega sempre questo danno psicologico di solito a un danno fisico. Esempio, perdo la mano, sicuramente ho la conseguenza, un danno morale che è la sofferenza subita, ho sicuramente anche un danno psicologico che poi è difficile da accertare. In questo caso però il danno psicologico da sé era stato sempre difficile e mai anche riconosciuto in realtà come danno a sé stante, anche perché vi è un'effettiva difficoltà di accertare le cause del danno psicologico, essendo ovviamente un danno interiore, e quindi in questo caso abbiamo avuto sicuramente un ottimo risultato perché ci sono stati anche vari risarcimenti per persone che hanno ottenuto solo il danno psicologico, che magari su alcuni aspetti è molto prestante e può condizionare la vita, come per esempio è avvenuto anche nel disastro del Vaionte, per esempio ci sono persone che a 65 anni dal fatto riportano sempre delle conseguenze negative proprio in virtù di questo danno. Ora il processo sappiamo che andrà avanti, si andrà in appello in secondo grado, cosa succede per le famiglie che hanno ottenuto questo punto, questa conquista arrivata al primo grado? Per quanto riguarda il lato risarcitorio sono state riconosciute delle provvisionali, quindi anche provvisionali cospicue per molti delle persone che saranno costituite parti civili e quindi sicuramente tanto queste persone prenderanno questa provvisionale nel frattempo che poi il processo andrà in secondo grado e poi anche sicuramente nel terzo grado in cassazione. Le persone offese e parti civili sicuramente vogliono anche loro stesse, almeno quelle che assisto io, sicuramente, ma sono convinto anche le altre perché poi ci siamo riuniti, quindi è un pensiero comune ricorrere in appello, ovviamente previa valutazione delle motivazioni che verranno depositate entro 90 giorni dalla lettura del dispositivo proprio per il discorso della pena, che ci si aspettava effettivamente una pena maggiore. La strada è sempre lunga perché sappiamo prima di tutto che sono lunghi tempi, in questo caso si rimette tutto in discussione, in appello, però sicuramente si parte da un punto fermo, ben preciso e delineato. A proposito dei tempi, molti si chiedono quando è che effettivamente si arriverà poi al terzo grado della cassazione, è difficile capirlo. Sette anni sono passati dall'incidente, ci sono voluti tre anni e qualche mese in più di processo in primo grado, insomma alla fine sembra ancora non troppo vicina. Ma allora bisogna vedere se questo processo prende una strada preferenziale, perché dico questo? Perché anche il Tribunale di Lucca affrontando questo processo ha fatto comunque, anche se si parla di tre anni di processo, un lavoro egrecio, perché noi tutti mercoledì ci si trovavano in udienza dalla mattina alle 9 e mezzo, alla sera alle 6 e negli ultimi periodi da settembre abbiamo avuto ovviamente quattro udienze come minimo a settimana, quindi più di quello dal Tribunale e dal Collegio non ci si poteva aspettare. Ora, in media un processo in appello prima di tre anni non viene fissato. Vista la gravità può darsi anche che i giudici d'appello diciamo diano una corsia preferenziale e quindi accelerano, anche se vi è tutto il problema che ci siamo trovati anche noi a affrontare di leggere e studiare queste oltre 500.000 pagine di materiale, quindi loro si trovano tutta questa mole di lavoro e di materiale da guardarsi e quindi ovviamente il tempo sarà necessario. In media, ripeto, un processo ordinario se si presenta l'appello e l'appello può essere presentato entro 45 giorni dal deposito della motivazione, in questo caso praticamente di solito i tempi sono almeno due o tre anni per l'appello e uguale per il ricorso a Cassazione. Torniamo alla cronaca per adesso e se è possibile torniamo sul nostro sito web reteversilianews.com, una notizia che è arrivata poco fa da Massarosa. Si parla di rifiuti abbandonati in strada e ci sono già sei autori smascherati. A meno di un mese dalla sua costituzione la speciale squadra denominata Nucleo Ambientale con compiti di tutela, sorveglianza, paesaggistica e ambientale ha trovato appunto sei autori di abbandono di rifiuti in strada. Lo rende noto il comune di Massarosa in una nota e questa è una delle tante foto che sono circolate in tutte queste settimane e ovviamente anche negli anni scorsi di rifiuti abbandonati in strada. E un'altra notizia invece di cronaca che ci arriva dalla polizia di Stato, un giovane marocchino di 31 anni che rubava all'interno di un appartamento di via Ugo Foscolo a Viareggio, pensate non soltanto stava commettendo un furto ma è stato anche sorpreso letteralmente ubriaco perché si era anche approfittato della situazione bevendo anche gli alcolici che aveva trovato lasciati dai proprietari di casa, si tratta di un appartamento per vacanze e dunque una seconda casa. Il ragazzo è stato preso su segnalazione di alcuni passanti che hanno chiamato al 113, la polizia è arrivata, lo ha bloccato non senza difficoltà visto lo stato di ebrezza e adesso è stato arrestato e si aspetta la convalida dell'arresto. Prima di tornare a parlare con l'avvocato Bartolini vorrei fare una parentesi sullo sport perché vorrei anche rivolgerci al nostro pubblico che segue da vicino Locke su pista perché siamo alla vigilia della Coppa Italia, delle finali di Coppa Italia, dunque nel servizio andiamo un po' a riepilogare la situazione per le due versiliesi, per il Cgc Viareggio e per il Forte dei Marmi. Sentiamo Roy Lepole. Il Cento Giovani Calciatori sogna il BIS in Coppa Italia dopo che aveva superato il Valdagno e l'aveva vinto nel 2011. Dopo arrivò lo Scudetto, la squadra è pronta e carica per affrontare questa nuova avventura. Il Forte dei Marmi non ha mai vinto invece questo titolo, quindi la squadra di Pierluigi Bresciani dopo tre scudetti spera di scrivere per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione. Venerdì al Via alla Capannino, questa tre giorni di Coppa Italia con le finali di Hockey su pista, con i quarti di finale che vedono alle 15 affrontarsi Lodi Bassano, mentre alle 17 sarà la volta di 100 giovani calciatori in Monza. A seguire alle ore 19 scenderanno in pista Forte dei Marmi e Sarzana, mentre alle 21 l'ultima gara di giornata sarà Follonica-Breganze. La vincente del derby Tosco Ligure affronterà la vincente tra Follonica e Breganze. Sabato alle 19.21 qualora qualificarsi forse il Follonica, mentre alle 21 la seconda semifinale vedrà fronteggiarsi le altre due vincitrici. La finalissima si terrà domenica alle 19, preceduta dalle finali di Serie A2 e di Femminile. Quindi non resta che augurare un in bocca al lupo agli due versigliesi che prendono parte a questa competizione di Follonica. E in bocca al lupo allora le nostre formazioni versigliesi dell'Hockey. Noi vi terremo aggiornati in questi giorni sui risultati e capiremo insieme come andrà a finire per il centro e per forteremarmi. Noi siamo quasi in chiusura. Prima di salutarci però volevo chiedere all'Avvocato Bartolini, abbiamo fatto il punto della situazione, abbiamo cercato di capire anche i prossimi passi a livello giudiziario sul processo verso l'appello. Vorrei capire i suoi assistiti, che clima, insomma, in che condizioni si trovano adesso e come affronteranno questi nuovi passi che dovranno compiere? Beh, sicuramente lo affrontano con serenità, perché, ripeto, il risultato l'abbiamo ottenuto, è stato un risultato sicuramente importante. E quindi il clima che si respirava era, abbiamo messo un punto fermo, ora andiamo avanti, andiamo avanti con serenità. La parola soddisfatti è brutta in questi casi, però si possono, si potrebbe usare un termine simile a soddisfatti per quella sentenza, almeno per la parte, insomma, per il danno morale. Sì, diciamo soddisfatti, sì, vabbè, non è forse il termine giusto, diciamo, da una parte sì, ripeto, sul discorso della quantificazione della pena, quello non c'è ovviamente soddisfazione, andrà poi vista la motivazione della sentenza e ragionare anche e capire il perché sono state date quelle pene che ci si aspettava sicuramente più alte nei confronti di questi amministratori delle ferrovie. E allora anche noi ovviamente, come tutta la città, aspetteremo le motivazioni di questa sentenza, con quelle si potrà sicuramente ragionare meglio e analizzare forse meglio anche gli scenari e passi da compiere. Siamo ormai in chiusura, prima di salutarci davvero, un ultimo pensiero va la piccola Angelica, una bambina di 4 anni che ci segue, una telespettatrice fedelissima di Rete Versilia, a lei vanno i nostri saluti, anche saluti da parte dei genitori, della mamma Veronica e del papà Massimo, che salutiamo anche noi, le salutiamo con affetto, a volte ci contattano i nostri telespettatori che possono anche inviare sms in diretta al numero appunto della nostra diretta tv che vedete sempre in sovrimpressione. I saluti finali adesso li rivolgiamo invece all'Avvocato Fabrizio Bartolini, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringraziamo l'Avvocato Bartolini, grazie a voi per averci seguito, l'informazione tornerà come sempre con il telegiornale edizione serale 18 e 25, è tutto, buona giornata.